bella ragazzi missione visa diversi man posti nel comando di neve ci troviamo esattamente qui questa è la posizione esatta pingata e zoomata secondo secondo posto ragazzi troviamo esattamente vicino pantano palpitante questo è il posto esatto e passiamo subito al terzo posto comunque dovesse vedere un edificio come questo come dicevo prima passiamo al terzo terzo posto ragazzi ci troviamo esattamente a parco pacifico questa è la posizione esatta zoomata un caseggiato piccolo rosso che sarebbe questo ma semplicemente che ci atterrate e avete visitato un altro posto passiamo al quarto ragazzi quarto posto ragazzi ci troviamo vicino a foschi fumaioli questo è l'hangard la posizione esatta è questa e passiamo l'ultima posizione l'ultimo l'ultimo anche ragazzi che si trova in questo punto esattamente di fianco alla segheria ovvero a sinistra la segheria vicino alla strada non so per quale motivo non me lo faccio vedere l'unico che mi fa vedere se si sarà buggato non ho idea comunque l'ultima posizione è questa ragazzi come sempre spero che il video è stato utile bella siamo giocati insieme adesso